E' stato fermato la notte scorsa dalla polizia di Manfredonia il presunto pirata della strada che sabato sera poco prima di mezzanotte ha investito e ucciso il 68enne Saverio Grieco a Manfredonia nel Foggiano. Si tratta di Giuseppe Cirillo, 31enne, e accusato dei reati di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida senza patente. La sera del 31 ottobre, mentre compiva una retromarcia in Viale Primo Maggio ad angolo con via Campanile, investì Grieco e lo lasciò sull'asfalto senza prestargli soccorso. Non sapeva di essere stato ripreso da una telecamera di sorveglianza di un esercizio commerciale vicino. Le cerche degli investigatori si sono concentrate sull'auto, una lancia musa di colore nero. Nel tardo pomeriggio di ieri una ragazza di Manfredonia si è presentata al commissariato, accompagnata dal suo avvocato, per rendere dichiarazioni sull'investimento mortale. La giovane ha riferito di trovarsi accanto a Giuseppe Cirillo al momento dell'impatto, come passeggera. Lo stesso Cirillo si è presentato poi in commissariato, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha provato però a contattare l'amica sul cellulare, forse per convincerla a riportare una versione a lui più favorevole. Cirillo è risultato, peraltro, destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida, essendo stato colto in flagranza alla guida in stato di ebrezza. L'auto, che presentava un'evidente ammaccatura sul lato destro del cofano posteriore, compatibile con il violento impatto, è stata posta sotto sequestro. Giuseppe Cirillo è stato dunque sottoposto a fermo. Su disposizione del sostituto procuratore del Tribunale di Foggia, Giuseppe Riccio, è stato poi condotto nel carcere di Foggia. Le forze dell'ordine hanno intensificato l'attività investigativa, spinte dalla richiesta di giustizia dell'intera città, sconvolta dal tragico episodio. Saverio Grieco, nonostante la corsa disperata e il successivo ricovero alla casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, è morto nella mattienata di ieri per le ferite riportate. Anche il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, aveva lanciato un appello a collaborare con le forze di polizia.